Anche se sono stato poco a Catanzaro sono stato benissimo, noi stiamo bene, la squadra sta bene di testa, sta bene fisicamente, abbiamo lavorato bene e quindi la affrontiamo proprio con il piacere di andarci a misurare con i primi della classe. Gli stimoli ci debbano arrivare dai record, lo stimolo è continuare a fare bene come stiamo facendo nell'ultimo periodo e poi come dicevo prima proprio il piacere di misurarsi contro una squadra così forte, ci sarà anche il pubblico delle grandi occasioni, quindi deve essere proprio il piacere di andare a giocare questa partita. Ma io come ho sempre detto il nostro credo non cambia mai, quindi i principi rimangono sempre gli stessi, poi ci sono degli accorgimenti, ogni partita ha il suo piano tattico e quindi sicuramente in base all'avversario di turno che affrontiamo in questo caso il Catanzaro ci saranno per forza degli accorgimenti tattici. Diciamo che sicuramente Avanteputti è un grandissimo giocatore, ma il Catanzaro ne ha veramente tanti, insomma Iemmello e potrei dirne tantissimi. Quindi è una partita che va affrontata con gli accorgimenti dovuti da squadra, tutto il gruppo deve essere compatto nell'affrontare una squadra che poi all'interno del proprio gruppo ha tantissime individualità.